Sono depresso e non vi dico perché, ci dovete arrivare da soli Comunque oggi andremo a vedere dei metodi che ci dovranno servire per curare questa minchia di depressione Ok, passo numero 1 Inizia ad andare da un medico, ci consiglia Wikiao Va bene, andiamo a sto cazzo di medico Aspetta medico, io ho un problema incredibile, io sono depresso Ah, ho capito quale è il suo problema Eh, quale, me lo dica, forza Lei è bruttissimo Che cazzo? Eh, signore, che le devo dire? Fa schifo, è più bella mia nonna che è morta vent'anni fa Non è stato per niente utile Proviamo il secondo consiglio che ci dà Assumi regolarmente i farmaci che ti sono stati prescritti Non riuscivo a letto, ho letto prescitti Che cazzo avevo letto? Dovrebbero servire i farmaci, ma le schiacciatine andranno benissimo Mantieniti attivo e fai esercizio fisico Questo lo posso fare Siccome da per terra non mi posso riprendere mentre faccio pressioni Lo farò da qua, che sembra una cosa bruttissima Ma non lo è Uno Non sono fatto per l'esercizio fisico Segui una dieta più equilibriata Le schiacciatine sono molto equilibrate Dormi meglio Ah, finalmente una cosa che mi piace Non isolarti Unicomico che ho è lui e ti va di frequenza Interagisci fisicamente con gli altri Sei molto simpatico Ma come ti chiami? Minchia Ma sul serio Ma voi ce l'avete creduto? No, vabbè Troppo forte Devo dire che un po' mi hanno aiutato No, non è vero Non è vero niente Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Datevi una bella menata E noi come al solito ci vediamo Ad un altro episodio ignorante Come questo Bella